Andrea Brizzi protagonista nella gara giocata dalla Pro Livorno Sorgenti contro la Correggese purtroppo il risultato dice male era cominciata bene la tua rete insomma aveva messo le cose sulla strada buona poi che cosa è successo successo che abbiamo accusato due episodi perché quelli sono due episodi tra l'altro secondo secondo noi è nati anche un po da due da due occasioni che non dovevano succedere perché una è nata dalla punizione non era angolo è successo il gol del rigore e la punizione no la punizione c'era abbiamo abbiamo fatto un errore noi direttura su questa palla e dalla seconda palla è nato il gol è nato che secondo noi il primo tempo è stato buono abbiamo giocato bene e peccato andare a riposto sul 2 a 1 con un gol rubato perché secondo noi il gol c'era ha dato l'arbitro il gol e il guardalena annullato per fuorigioco esatto poi è seguita appunto una ripresa in cui la Pro Livorno ha cercato da subito insomma di alzare il baricentro stringere la Correggese nella propria metà campo ha creato anche purtroppo non arrivato alla rete di un pareggio che insomma per quanto visto a fuori sarebbe stato sicuramente meritato se d'accordo sono sono d'accordissimo per quanto riguarda il primo tempo quantomeno avevamo continuato a giocare fare la nostra partita avevamo creato e se c'è stata una mancanza in questa partita magari nel secondo tempo di di non essere stati forse aggressivi da dire la vogliamo riprendere no non che ci abbiano messo in difficoltà perché non ricordo una parata di blondo però c'è mancato a noi di creare creare qualcosa in più per arrivare al pareggio appunto non arriva il risultato non arrivano punti però sicuramente fa esperienza insomma questa questa gara bisogna sicuramente farne tesoro per migliorare perché ci aspetta insomma un'altra trasferta importante si torna in Emilia in caso del progresso bisogna cominciare subito a voltare pagina e prepararsi sì sì il campionato non finisce di certo oggi siamo solo alla terza e come si fa esperienza fa esperienza e andiamo contro il progresso facciamo la nostra partita sono sicuro che raggiungeremo tre punti ringraziamo andrea rizzi ma l'abbiamo ma l'abbiamo